Questo programma vi ho offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia. Abbiamo con noi quest'oggi il direttore Ferruccio De Bortoli, più volte direttore del Corriere della Sera, anche del Sole 24 Ore, quindi un'esperienza nella comunicazione, nella conoscenza della realtà sociale a tutto campo, a tutto tondo. Direttore, abbiamo parlato di speranza, futuro, che cosa ci aspetta, che cosa si intravedono in questi giorni in cui l'Italia sembra ripartire ma attorno a noi non tutto è chiaro, non tutto ha una visione che si può dire apra a una speranza certa? Il Paese è ripartito meglio del previsto, questo dobbiamo dercelo con grande sincerità, senza farci prendere troppo dalla soddisfazione di aver per esempio evitato una recessione che fino a due mesi fa era data per sicura. Però ci troviamo ancora nel mezzo di una crisi internazionale, c'è una guerra in Ucraina, forse ce lo siamo un po' dimenticati, no? Questo dovrebbe interrogarci sui meccanismi anche più sensibili dell'informazione e anche sul fatto che l'opinione pubblica dopo un po' si stanca delle emergenze e non può vivere due emergenze contemporaneamente la pandemia e la guerra, tende a rimuovere. Dall'altro lato noi abbiamo una situazione sociale seria con disuguaglianze crescenti in una società che invecchia, nella quale i giovani hanno poco spazio e tendono ad andarsene. In sintesi dovremmo dire prendiamo conto di ciò che siamo, dei primati che abbiamo, delle nostre grandi capacità, ma cerchiamo anche di vedere quelli che sono i problemi in prospettiva, cioè noi fatichiamo a ragionare a 2, a 3, 5, 10 anni. I problemi in prospettiva sono legati soprattutto all'inverno demografico e questo è per certi versi persino drammatico, ma è come se a un certo momento non volessimo affrontare questo tipo di realtà e poi non siamo un paese invaso dall'immigrazione, ma siamo un paese che si sta svuotando. Quindi siamo sempre di meno sia perché l'immigrazione soprattutto magari transita. Però a meno siamo non è come dice il proverbio, meglio stiamo. No, meno siamo, meglio stiamo. Ci sono dei problemi per lo stato sociale, ci sono dei problemi anche per le famiglie, per andare avanti a sostenere tutto quello che serve nelle case, nel lavoro. Questo circuito che sembra un circolo vizioso, dove deve andare a rompersi per riprendere un percorso? Noi siamo nel mezzo di una grande transizione, dobbiamo affrontare i temi dell'emergenza climatica, la transizione energetica, dobbiamo cambiare ovviamente il nostro modello di sviluppo, che è un modello attualmente di sviluppo che consuma la terra sulla quale stiamo e noi dobbiamo passare ad una situazione nella quale con le fonti rinnovabili saremo in grado di sorreggere il nostro sviluppo senza consumare ciò che abbiamo, senza distruggere l'ambiente. Però questa transizione è dei costi sociali, perché per esempio l'auto elettrica è un bene di lusso e se a un certo momento colpissimo, come è stato fatto, con delle maggiori tasse, gli usi energetici più dannosi per l'ambiente, probabilmente colpiremmo le popolazioni più in difficoltà, i ceti meno abbienti, le persone povere, pensate soltanto alla crisi energetica che abbiamo vissuto, che adesso ovviamente morde un po' meno, ma l'inflazione per le famiglie povere è molto, ma molto più alta della media di cui parliamo ogni giorno, cioè la crisi energetica ha messo in ginocchio le persone più in difficoltà e noi dobbiamo nella transizione energetica pensare di sorreggere queste persone in difficoltà, però per fortuna noi abbiamo un grande capitale sociale, capitale sociale che riguarda le associazioni, che non c'è bisogno che non abbia un'offerta di aiuto e questo capitale sociale, ed è un tasto sul quale io insisto spesso, è una grandissima opportunità per essere più solidali, per avere comunità più aperte e nello stesso tempo anche un grande vantaggio competitivo economico. Ma anche la situazione nuova politica che si è venuta a creare riuscirà a tenere attive queste forze sociali, questa realtà che è sempre stato l'humus, dentro cui sono sorti progetti nuovi, realtà nuove, oppure rischia un po' di far implodere la situazione? Io spero di sì, adesso vorrei dare un giudizio, noi per fortuna abbiamo coalizioni che in campagna elettorale dicono alcune cose che poi al governo non fanno, è un caso di incoerenza politica dichiarato, però tutto sommato vuol dire che c'è un aggiustamento, nel senso che anche chi arriva da sinistra o da destra, poi a un certo momento si trova di fronte a problemi che non hanno soluzioni di destra o di sinistra, hanno soluzioni di buon senso o no. E allora io penso che ci sia un tutto sommato, nei tanti difetti del nostro carattere italico, l'evasione, un certo menefreghismo di fondo, un certo cinismo così, ci sia poi una qualità di fondo che è il buon senso e anche un relazioni migliori e anche meno rancore di quello che possiamo per esempio vedere in altri paesi. Se io mi confronto con la situazione francese preferisco la situazione italiana, ci sono meno divisioni sociali, noi non abbiamo, nonostante c'è stato un impoverimento negli ultimi anni, non abbiamo avuto grandissime tensioni sociali, il che vuol dire che sono state prese decisioni a volte discutibili, che però sono andate nella direzione giusta, cioè aiutare per esempio i redditi più bassi, le famiglie più povere in difficoltà e nello stesso tempo si è fatto leva su queste comunità che sono parte del privato sociale, perché il futuro sarà fatto da uno Stato che io spero sia meno invadente possibile, però che è chiamato a dei compiti diversi e superiori rispetto al passato, al mercato che io spero si sviluppi di più, anche se anche in ambito cattolico ci sono delle perplessità di vario tipo, non è tanto amato il mercato, però il mercato è concorrenza, è merito, è anche competizione, è creatività, non bisogna esagerare, ma non si può neanche pensare di vivere in una società con rischio zero, e accanto allo Stato, accanto al mercato, la comunità, e la comunità è quella a cui noi dobbiamo guardare, cioè il nostro modo di stare insieme, non pensando solo a noi stessi, ma preoccupandoci anche di chi vive con noi nella nostra città, nel nostro paese, nella nostra diversità, tra l'altro c'è un piccolo particolare, la transizione energetica rilancia queste comunità energetiche in cui a un certo momento tutti ci si mette insieme per risparmiare energia elettrica o produrla in un altro modo, questa è un'occasione straordinaria per rilanciare le comunità, per renderle più coese e forse anche per ingiovanirle. E forse quel percorso che magari anche la realtà cattolica, le parrocchie a volte sembra un po' impoverita perché ci si muove verso un individualismo esasperato, poi dopo queste situazioni fanno rinascere l'esigenza di metterci insieme. Però sa, questo individualismo esasperato ha creato tantissime solitudini, tantissime solitudini che lo vediamo soprattutto nelle ragazze, nei ragazzi, perché i nostri giovani hanno perduto con la pandemia molto più tempo di quanto ne abbiamo perduto a noi e forse hanno perduto anche anni importanti dell'apprendimento, ci sono nuove fragilità, c'è anche un senso diciamo di abbandono che hanno nei confronti delle loro famiglie, nei confronti delle loro comunità, noi dobbiamo avere più attenzione per queste fragilità umane che sono il portato di anche solitudini che nascono sulla rete, cioè di persone iperconnesse e nello stesso tempo drammaticamente sole. In queste sue parole si coglie la maturazione di un giornalismo che, come lei ha saputo ben presentare nell'introduzione a questa raccolta di testi del Cardinal Martini, è un testimone civico, quindi ha la necessità di dire qualcosa che serva alla società. Come coglie anche nella comunicazione queste esigenze di costruire un futuro che superi l'individualismo, che porti verso una dimensione comunitaria del nostro vivere, che non la metta da parte? La comunicazione, io penso che lo spazio ci sia, insomma, la ringrazio per la maturazione, forse non si smette mai di maturare e poi si guarda indietro a quello che si è scritto, a quello che si è fatto, insomma, anche con un giusto senso critico perché gli errori si commettono ed è giusto ammettere che si fanno degli errori e chi lavora fa degli errori, ovviamente, non esiste qualcuno che possa dire io sono assolutamente infallibile o ho la possibilità, no, bisogna essere un po' umili, insomma, e anche questa umiltà si è perduta nel nostro dibattito pubblico, anche nella nostra condizione, nella nostra condizione privata, però, insomma, io penso che la comunicazione debba essere più attenta, più responsabile e anche con una finalità di bene, che non vuol dire introdurre elementi di censura per carità, però avere anche la responsabilità di far crescere gli esempi positivi, non soltanto di denunciare, come è giusto che sia, gli esempi negativi. Ecco, in questo penso che il suo ruolo nuovo di Presidente della Fondazione Corriere della Sera la mette a contatto anche con un'altra realtà, quella dell'animazione culturale, del porsi come nuovo attore in una realtà che sta ripartendo e quindi di cogliere anche questa necessità di confronto, non soltanto distaccato oppure fatto sui social, ma anche con una partecipazione diretta. Come ha colto questo nuovo impegno? Io, ovviamente, il Corriere è la mia casa da tanti anni, io sono grato al direttore Fontana, all'editore Cairo per questa opportunità e sono grato anche al professor Piergaitano Malchetti che ha diretto la Fondazione Corriere della Sera dalla sua nascita, insomma, ed è una grande istituzione culturale, non soltanto milanese che custodisce i valori di una grande testata, però nello stesso tempo è un attore alla scoperta del nuovo, che cerca, come altre istituzioni, di mettere in relazione mondi diversi, perché una delle particolarità, cioè noi viviamo in una città, Milano, che ha molte qualità, a volte un po' arrogante, a volte un po' pensa di non avere difetti, però è un esempio della capacità di mettere insieme mondi diversi, linguaggi diversi, idee diverse, facendo in modo che il confronto sia nel rispetto reciproco, senza pregiudizi, senza convinzioni granitiche assolute, ma accompagnati dal dubbio alla ricerca di un pensiero critico e da questo punto di vista la Fondazione ha questo scopo, come altre fondazioni, la nostra città è assolutamente ricca di istituzioni culturali di questo tipo, però noi dobbiamo confrontarci senza avere paura del nuovo, senza riflettere gli errori e le paure di una società che invecchia, quindi c'è la tecnologia, c'è la digitalizzazione, ci sono i grandi temi legati al cambiamento delle famiglie, alle questioni di genere, insomma vanno tutti affrontati con spirito aperto, senza chiusure pregiudiziali. Come lei ha detto sempre in questa introduzione che è molto bella, la consiglio, il bene va cercato e raccontato, il male non va circoscritto, si cadrebbe vittima di un mesto disencanto se guardiamo soltanto il male e poi ci dimentichiamo ciò che è bene e quindi la comunicazione è un ruolo importante in questo discorso di apertura e di confronto. Sì, però la comunicazione non deve pensare di avere un ruolo educativo, deve porre degli strumenti non avariati alle persone perché possano fare al meglio possibile il loro lavoro di cittadini responsabili in tutte le scelte, cioè di preservare lo spirito critico dell'opinione pubblica perché se ha l'opinione pubblica uno spirito critico è un'opinione pubblica libera, non è una curva di tifosi e non è nemmeno un recinto di persone che sono state imprigionate e rese sudditi tenendo conto che i loro dati hanno persino un mercato ma loro non lo sanno, li hanno venduti, quello che succede per esempio sui Social Network e voi lo descrivete ogni giorno con grande perizia. Questo è il tema principale, cioè guardare in faccia alla realtà, descriverla in tutti i suoi aspetti senza avere la presunzione di possedere la verità, questa è una presunzione che non possiamo e non dobbiamo avere, però purtroppo ci sono atteggiamenti arroganti, ci sono proiezioni di potere, la comunicazione è una comunicazione nella quale chi si avvicina ha bisogno di informarsi, non si sente paria, non si sente escluso, non si sente inadeguato, non si sente incapace di poter comprendere concetti complessi, la comunicazione vera semplifica, però non in maniera semplicistica, rende tutto chiaro ma non banalizza, questo è un passaggio fondamentale di una cultura nuova dell'informazione che il mondo digitale tende ad ampliare, a non a comprimere. Bene, continuiamo tra poco il nostro dialogo con il direttore De Bortoli. Con il direttore De Bortoli stiamo dicendo qualcosa perché è veramente un tema molto vasto sulla comunicazione e prendo sempre la sua introduzione a questi testi di Martini in cui arrivando quasi a conclusione parla anche del silenzio, dell'ecologia della parola, cioè saper misurare anche quello che si dice o la quantità della comunicazione, che cosa ci può dire come consiglio anche come utilizzatori e poi anche come comunicatori? Come prima cosa la comunicazione poi trasferisce se fatta bene l'informazione ovviamente che è una parte della comunicazione perché c'è anche la comunicazione di altro tipo, trasferisce agli utenti, ai navigatori, ai lettori degli elementi utili per poter creare una gerarchia delle fonti, cioè una selezione di ciò che è interessante e di ciò che non lo è, di ciò che è sostanziale e non di ciò che è effimero insomma e poi potremmo andare avanti di ciò che è lecito ma non di ciò che è illecito, di ciò che riguarda la comunità e non magari soltanto il privato, l'esondazione del privato nella comunicazione pubblica è una sottile subdo alla forma di censura, io ti inondo di cose prive di importanza relativa in modo che tu non riesca più a capire che cosa è importante e che cosa non è importante, allora una comunicazione, un giornalismo di qualità, un'informazione seria fornisce in maniera avvincente perché se poi l'utente si annoia è come se a un certo momento avessi censurato quello che sto dicendo, insomma quindi in maniera avvincente senza spettacolarizzare troppo ma senza neanche utilizzare la persona come merce perché se la persona è la merce della mia modo di spettacolarizzare una informazione è quella persona prigioniera di chi fa la comunicazione, quindi non è ovviamente una posizione che può essere condivisa questo. Ecco allora questo è un po' il cammino difficile che dobbiamo cercare mettendo anche il lettore, il navigatore, l'utente nella condizione di poter decidere che cosa è importante e che cosa non è importante, c'è una vecchia e abusata definizione del redattore che è quello che separa il grano dalla pula e poi non pubblica la pula, insomma ovviamente, ma questo vale, le regole valgono, sono cambiati gli strumenti attraverso i quali si arriva al lettore, ma non sono cambiate le regole e poi sempre di persone stiamo parlando, persone che hanno, sono titolari di diritti e anche la persona che è accusata del peggior delitto è titolare di diritti, la sua dignità non può essere violentata, insomma, e quindi ci sono tutta una serie di norme che la stessa professione impone ai giornalisti, però se ci pensiamo non c'è bisogno neanche di scriverle, non c'è bisogno di avere codici etici che spesso non rimangono lettera morta, si tratta semplicemente di buonsenso e di rispetto dell'altro perché l'altro non è la proiezione di te stesso. E qui quando si va sulla persona senza come dire banalizzare però anche riflessioni che si sono fatte all'interno della fondazione Corriere della Sera, si parla anche dell'intelligenza artificiale che sembra sostituire in alcuni casi il ruolo della persona anche nel giudizio, forse approfondendo bene chi conosce questi nuovi mezzi si rende conto dei limiti a cui siamo davanti e vogliamo dirlo esplicitamente della stupidità dell'intelligenza artificiale, però ci confrontiamo con questi mezzi. Sì, sì, e tra l'altro noi stessi tendiamo a far sì che il machine learning o l'intelligenza artificiale o qualcosa del genere, insomma, possano essere il più possibile simili a noi, in realtà tutti questi algoritmi, questi grandi strumenti che catalogano miliardi di informazioni non fanno altro che sistematizzare ciò che è parte dell'accaduto della realtà, ciò che è nei nostri comportamenti ripetuti. Quindi i difetti, qualche volta persino le qualità sono ancora i nostri e quindi sostanzialmente sono la nostra proiezione nel bene o nel male e forse questo dovrebbe confortarci, nel senso non è quella macchina perfetta ma è un po' uno specchio, forse qualche volta deformato di quello che noi siamo e quindi prendere ciò che è l'intelligenza artificiale oppure queste forme evolute di intelligenza che risponda delle domande in maniera inquietante e probabilmente alcune di queste fanno un lavoro meglio degli esseri umani, però prenderli con un sano beneficio di inventario, senza pensare che sia diventato un totem che è una sorta di idolatria della tecnologia che abbia sempre ragione, hanno torto come noi. Direttore, adesso farei un salto forse in qualche cosa dove l'umanità conta molto ed è preponderante il suo impegno in Vidas e farei vedere un filmato che presenta una situazione di quelle che sono prese in carico da Vidas, così ci rendiamo conto di che cosa stiamo parlando. Beatrice è nata a prematura, per cui una volta nata l'hanno subito portata in terapia intensiva e da lì aveva una serie di problematiche legate alla deglutizione. Come ultima spiaggia è stato fatto il test genetico ed effettivamente è stata ritrovata una trisomia parziale del cromosoma 18. proprio perché è una trisomia parziale, la prognosi non è del tutto chiara. Beatrice è rimasta in ospedale e noi con lei per i primi quattro mesi di vita. Man mano sono state modificate le terapie aggiungendo anche un supporto ventilatorio, perché una delle problematiche maggiori è dal punto di vista respiratorio, quindi compromette la respirazione. Una volta in dimissione, quindi a casa, ci si spaventa anche un po' rispetto all'essere appunto con una bambina che ha delle esigenze particolari, dei macchinari medici e non avere un supporto specifico. Per cui ci hanno messo in contatto con Vidas, che nella prima settimana post dimissione ci ha ospitato presso un casa sollievo bimbi e ci hanno permesso con il loro supporto di entrare proprio in sintonia con Beatrice 24 ore su 24 e diventare un po' più confidenti con le terapie da assumere, con i macchinari che fanno parte tuttora delle sue terapie. Potersi confrontare con persone qualificate su vari aspetti della vita della famiglia e del bambino è fondamentale per i bambini fragili ancora di più, per riuscire a raggiungere uno standard di vita degna di essere vissuta e non sempre è così scontato per i bambini malati. Invito tutti a sostenere il servizio domiciliare pediatrico di Vidas. Ecco direttore, la sua esperienza in Vidas penso che la metta a contatto con queste situazioni. Che cosa si impara da questi genitori che hanno dei figli con delle esigenze particolari e anche dal personale che come Vidas voi mettete a disposizione di queste famiglie? Si impara molto dal coraggio di questi genitori. Genitori che combattono tutti i giorni, che non si arrendono mai, neanche di fronte alle peggiori diagnosi che hanno un senso, un rispetto della vita, un amore per la vita che ci insegna quanto siano importanti anche le piccole cose, i piccoli gesti, anche quelle parole che riteniamo nella nostra normalità del tutto prive di importanza. Però per bambini che sono in queste condizioni, per gli anziani, tanti anziani che sono malati inguaribili, che noi assistiamo, sono cose importanti. Io penso che Vidas sia un grande esempio di come si possa, magari con una semplice attenzione umana, magari soltanto con uno sguardo, magari soltanto con un sorriso, rendere l'ultima parte della vita delle persone, oppure situazioni pediatriche difficili come quelle che abbiamo visto, così intensamente forti, in modo che ogni secondo sia una sorta di anno di vita in più. Allora si riesce a capire, cosa che io francamente nella mia lunga carriera giornalistica mai avevo compreso, ammetto l'ignoranza, insomma, che il calore umano produce vita, che l'attenzione è un moltiplicatore dei secondi, dei minuti, persino degli anni. E questo, insomma, poi c'è la medicina, e poi c'è l'assistenza umana, c'è la vicinanza, ci sono i sentimenti, ci sono le emozioni. E questo è un miracolo, possiamo definirlo così, che nasce dalla solidarietà, dall'impegno di persone che si donano e poi si impegnano anche come professionisti e sanno stare vicini. Sì, da questo punto di vista, noi siamo un paese straordinario, questo dobbiamo dircelo, perché ci sono tante realtà come Vidas, non solo nel campo delle malattie terminali, oppure delle malattie pediatriche più difficili, più rare, insomma, ecco. Però io penso che la civiltà di un paese si misuri poi in questi momenti, in questi passaggi nei quali le famiglie sono sole, nei quali c'è non solo la malattia, ma c'è anche la solitudine, che è un acceleratore delle malattie. E allora il fatto che ci sia comunque una società che si occupa, che dà assistenza, che fornisce delle risposte, beh, insomma, credo che questo sia una testimonianza di un grado di civiltà superiore e della quale noi dovremmo essere un po' più orgogliosi. E quindi direi che ancora ritorniamo allo stesso tema, la civiltà, la comunicazione, si misura nel grado di capacità di creare comunione, quindi una comunione che nasce anche da tutte quelle buone pratiche che ci tengono uniti. Ma la comunicazione crea dei legami, insomma, no? Cioè non deve avere, diciamo, un intento pedagogico, perché quello è un compito rispetto ad altri. Però deve creare dei legami, dei legami di fiducia l'uno nell'altro, di trasparenza, perché io ho fiducia nell'altro, specialmente se questo esercito ha un potere, se questo potere è trasparente. Io posso valutare, nella mia condizione di cittadino, con i miei diritti, se quell'esercizio di un potere, magari da me delegato, è un esercizio positivo per l'intera comunità. E' un legame perché laddove c'è una buona informazione, c'è una buona opinione pubblica, il Paese cresce, il Paese cresce nella trasparenza, nella consapevolezza e soprattutto nella coscienza dei problemi e del fatto che non si può avere tutto, che poi a un certo momento bisogna scegliere. No, è che i desideri non possono trasformarsi improvvisamente in diritti e che una comunità complessa come la nostra è una comunità nella quale accanto i diritti spesso giustamente sottolineati ci sono i doveri di cui parte della nostra società spesso si dimentica. Bene, ringraziamo anche per questo invito a tenere insieme diritti e doveri che il direttore De Bortoli ci fa in questo suo incontro con noi per il quale lo ringraziamo ancora. Grazie.